Ciao a tutti, sono Mattia Tassi, Marketing Manager Italia per Davines. Innanzitutto, benvenuti e grazie per il tempo che ci dedicherete. Partirei chiarendo alcuni aspetti della nostra diretta. Staremo insieme circa un'oretta. Questa diretta verrà poi registrata e salvata sulla pagina, sul canale YouTube School of Marketing and Education. Avrete quindi la possibilità di rivederla magari insieme ai vostri collaboratori o riguardarla anche in futuro. Avete a disposizione una chat nella quale potrete andare a effettuare delle domande. Al termine di questa diretta poi andrò a vedere tutte le domande ricevute e se ci saranno delle domande di interesse per tutti darò la risposta in diretta. Altrimenti vi risponderò one to one. Questo documento che oggi stiamo andando a presentare è un documento che sarà disponibile per tutti voi. Sarà facilmente scaricabile e nel corso della diretta vi spiegherò dove. A questo punto penso che possiamo iniziare. Inizierei con due parole nello spiegare il concetto di We Care. We Care significa avere cura. E ci si può prendere cura in tanti modi diversi. Per noi di Davines We Care significa produrre e consegnare una fornitura di gel del buon auspicio per le mani ai saloni Davines. Per noi We Care significa creare un palinsesto formativo gratuito da mettere a disposizione di tutti i saloni. Per noi We Care significa donare 110.000 pezzi di gel igienizzante ad associazioni di volontariato che stanno operando sul territorio per dare sostegno a chi ne ha più bisogno. Per noi We Care significa proprio come recita il nostro scopo e cioè quello di essere i migliori per il mondo e non al mondo. Per noi We Care significa anche creare un manuale da condividere con voi con idee e suggerimenti in questo momento difficile. E noi oggi siamo qui proprio per questo. Abbiamo pensato di condividere con voi alcune idee nella speranza che vi possano aiutare durante questo periodo. Questa guida è per voi e per il vostro team per informarvi su quello che stiamo facendo e per restarvi vicino e condividere con voi alcune idee che potrete poi intraprendere a voi stessi per stare vicino con i vostri clienti. Entriamo un po' nel vivo. Andiamo a vedere da vicino come è stato strutturato questo manuale. Ci sono quattro grandi capitoli. Uno che guarda il passato, quindi fare un punto della situazione oggi significa guardare al passato e vedere tutte le scelte che ci hanno portato oggi ad essere il salone che siamo. Ci sono poi due capitoli che riguardano il presente, quindi come stare vicino oggi al vostro staff e come stare vicino oggi ai vostri clienti. Quindi con degli strumenti e dei consigli pratici per fare questo. Poi, il quarto e ultimo capitolo è il capitolo che guarda al futuro e quindi guarda alla prossima ripartenza che dovremo andare a gestire tutti quanti. scusate che è saltato. Ecco qua. A questo punto partiamo con il primo punto. Facciamo il punto della situazione. In questo momento particolare le attuali misure di isolamento protettivo ci hanno portato alla chiusura del salone. In questo modo abbiamo però riacquistato una delle cose più importanti che è il tempo. Al tempo, oggi, stiamo ridando un valore. Stiamo ridando un valore e quindi anche quando ripartiremo questo tempo lo gestiremo senz'altro in un altro modo. Oggi però è importante usufruire di questo tempo per fare il punto della situazione del vostro salone domandandosi se tutto sta procedendo come immaginavate oppure se ci sono delle cose che possono essere migliorate. Vediamo come. Noi quello che diciamo è di essere saggi e dalle ampie vedute. Quello che raccomandiamo è di fare ai proprietari dei saloni un prendere del tempo per dedicarlo a valutare come siamo oggi. La prima cosa che c'è da fare è pensare cercando di fare una fotografia del nostro salone oggi. E abbiamo creato delle domande e una piccola tabella tutto molto semplice che vi può guidare nel fare questo tipo di esercizio. Innanzitutto per partire la cosa che c'è da domandarsi è che cosa va bene e che cosa non va bene del mio salone oggi. Immaginatevi proprio di creare una vera tabellina come quella che abbiamo messo qui nella pagina dividerla in due e scrivere nella parte di sinistra tutte le cose che vanno bene del salone. Le cose che vanno bene del salone saranno i nostri punti di forza. Questi punti di forza andranno consolidati andranno messi in sicurezza saranno quelle cose che magari ci hanno resi distintivi fino ad oggi e sui quali dovremo continuare a lavorare anche un domani. Poi sulla parte di destra, nella colonna di destra ci sono tutto ciò che non va bene del nostro salone. E qui bisogna farsi una domanda. Cioè, di quello che non va bene, che cosa posso cambiare? E delle cose che io posso cambiare devo andare a vedere quelle che sono importanti per il mio cliente e dividerle, scenderle, da quelle che sono meno importanti per il mio cliente. Quindi quelle che possono determinare il successo o l'insuccesso del mio salone. Questo per quale motivo? Perché da questa mappatura emergeranno due tipologie di attività, di cose che non vanno bene nel mio salone. Quelle importanti per il mio cliente che determineranno il successo del mio salone che saranno quelle primarie. Saranno le cose più importanti sulle quali io dovrò andare a lavorare nel prossimo periodo. Al tempo stesso, una volta che abbiamo lavorato su questi punti di debolezza e siamo riusciti quantomeno a far sì che non fossero più punti di debolezza. È difficile prendere una debolezza e portarla a un punto di forza. Però bisogna elevarla affinché questa non mi dia più problemi, non mi arricchi più problemi. Soprattutto perché è importante per il mio cliente. Poi, una volta che avremo sistemato questi, ci sarà da passare al livello successivo. Quindi alle cose che non vanno bene, che non sono così determinanti per il mio cliente, però comunque rimangono sempre importanti e sono punti di debolezza sui quali ci devo lavorare. Questo è il primo passaggio. In questo momento, in questo momento in cui abbiamo del tempo, abbiamo riacquisito del tempo, dovete fermarvi e utilizzare questo momento per fare un punto della situazione, seguendo questa procedura, questo esercizio che vi abbiamo condiviso con voi. Dopodiché passiamo al secondo capitolo. Il secondo capitolo quindi riguarda il presente ed è quello di stare vicino al tuo staff. In base alla situazione attuale, ci sono tre cose fondamentali. Essere trasparenti, quindi spiegando chiaramente la situazione attuale ai vostri staff, fornendo tutte le informazioni reali sulla vostra attività. Bisogna essere trasparenti. A volte, anche se non abbiamo il 100% dell'informazione, è giusto comunque condividerla. in questo momento in cui i rapporti non sono più fisici, ma sono diventati virtuali, digitali. coinvolgere il tuo team, facendolo sentire parte delle decisioni prese. Mai quanto in questo momento è importante che il team, tutto il tuo staff, sia allineato con te nella presa delle decisioni e che si senta coinvolto in queste decisioni prese in questo momento. E tenersi in contatto con il proprio staff, quindi organizzando ogni giorno incontri virtuali, condividendo un reale percepibile interesse nella loro vita e nella loro sicurezza. Quindi stare vicino al vostro staff è uno degli aspetti molto più importanti in questo momento. Vediamo come si può stare vicino in questo momento. Coinvolgi il tuo staff. Allora, qui bisogna cogliere questo tempo che noi abbiamo a disposizione come un momento per migliorare noi stessi. Dovremmo uscire da questo isolamento migliorati, sia da un punto di vista di conoscenze che di competenze. Quello che si potrebbe fare, noi suggeriamo tre attività. Innanzitutto partire con lo studiare insieme. Può essere come tornati a scuola oggi. Oggi abbiamo il tempo da dedicarci tutti insieme ad organizzare dei meeting digitali per parlare di uno specifico argomento. Quando facciamo questo è importante però organizzare un palinsesto. Cioè non bisogna da un giorno all'altro dire incontriamoci per parlare di questo perché per quanto oggi abbiamo riacquisito il tempo ci sono tante cose, tante attività che stiamo facendo e magari anche, penso, quante telefonate, videochiamate stiamo facendo. Le persone oggi hanno bisogno comunque di pianificarsi una giornata. E quindi potremo creare proprio delle vere e proprie classi virtuali dove si va a studiare qualche argomento. Io penso alla collezione che Davines ha lanciato poco tempo fa The Eternals. Eternals è la prima collezione di Tom Connell che è stata resa disponibile sulla nuova piattaforma Davines Professional che è presente sul sito Davines nella sezione per professionisti. Oppure cliccando su questo link che io vi ho riportato qui in verde. Su questa nuova piattaforma abbiamo caricato tutti i contenuti, schede tecniche, book della nuova collezione. E questo vi permetterà quindi con il vostro staff di andare in profondità di tutti i look e prepararvi per la ripartenza. Altre cose che potrete studiare insieme magari sono tecniche di vendita, di merchandising. Quindi cogliere questa occasione per allineare lo staff e per quindi elevare il livello di tutti i vostri collaboratori, di tutte le vostre persone del vostro team. Questo perché quando si ripartirà ci sarà una ripartenza molto forte, molto veloce. Quindi il tempo da dedicare per allineare tutto lo staff è oggi. Domani non ci potremo permettere di avere un team magari non preparato a 360 gradi. Domani dovremo fare nuove attività, dovremo essere tutti pronti a fare tutto in salone. Quindi oggi è il momento per elevare il proprio team con quindi sessioni di studio insieme e poi anche magari facendo un esercizio dove oggi abbiamo in tanti il nostro smartphone in mano e molto spesso siamo sui social media. Ho visto veramente il propagarsi di tantissimi tutorials, tantissime immagini che possono essere anche molto interessanti per il vostro lavoro. L'esercizio che potreste far fare ai vostri collaboratori è quello di far sì che quando loro trovano dei tutorials o delle immagini che possono essere interessanti, di interesse anche per la ripartenza e per tutti voi, di raccoglierle, di condividerle su un gruppo e poi prendersi dei momenti durante la settimana per vedere tutti insieme questi tutorial, queste immagini, commentarle e magari proprio generare anche dei nuovi tutorial proprio fatti fra di voi. Questo sicuramente può essere un buon modo per coinvolgere il vostro staff. Sempre per coinvolgere il vostro staff che cosa abbiamo fatto? Noi come Davines abbiamo creato della formazione digitale, una vera e propria piattaforma di live streaming, quindi eventi live che vengono effettuati in diretta aperti a tutti, aperti al pubblico. Quindi senza registrazioni, senza particolari necessità, stiamo offrendo un palinsesto ormai da tre settimane e continuerà per il prossimo periodo con formazione gratuita. La formazione abbiamo visto che spazia dall'education al marketing, alla serena sala, quindi la nostra sociologa che ci parla di tendenze, di futuro, di possibili scenari, ci sono corsi manageriali, veramente ce n'è per tutti i gusti. Si parla anche di prodotto, si parla. Quali sono i tre strumenti da tenere in considerazione in questo momento? Sono tre, sono determinanti. Il primo è la pagina Davines Education Italia. È un gruppo che si trova su Facebook, è un gruppo chiuso per il quale bisogna richiederne l'accesso dando alcune informazioni. Una volta che siamo stati aggiunti a questo gruppo avremo poi tutte le informazioni necessarie su queste dirette, su questi eventi che stiamo facendo. E qui potete cliccare direttamente su questo link che vi porterà sul gruppo di Education Italia e richiedere così la possibilità di essere iscritti e partecipare a questo gruppo. Ci sarà poi un'altra pagina molto importante che è il sito Davines Italia. Nella sezione per professionisti abbiamo creato un vero e proprio calendario che si chiama School of Marketing and Education. In questo calendario troviamo tutti gli appuntamenti delle settimane che ci accompagneranno, delle settimane a venire. Qui avremo tutte specificate quali sono i corsi, l'orario, a chi è rivolto, se sono aperti, se sono chiusi, qual è l'obiettivo di questo incontro. E ci sarà la possibilità direttamente da lì di cliccare sul link e andare direttamente a vedere la diretta. quindi anche in questo caso io vi suggerisco di cliccare sul link del sito di Davines Italia che io vi ho messo qua e salvarvi questa pagina sul vostro cellulare come se fosse una piccola app in modo da avere questo calendario sempre a portata di mano. Il canale YouTube. Il canale YouTube poi anche questo è determinante. È determinante per quale motivo? Innanzitutto se avete perso una diretta perché per svariati motivi non avete avuto la possibilità di collegarvi andando su questo canale che anche qui lo trovate sul link che vi ho riportato e anche questo si chiama School of Marketing and Education questo ci permetterà di riguardare una diretta che abbiamo perso ma ancora più importante questo gruppo ci permetterà di fare delle classi formative con il nostro staff quindi dopo che voi avete visto la diretta magari potrebbe essere il momento di organizzare un corso con i vostri collaboratori e dopo di che andare ad affrontare le tematiche trattate in questa presentazione quindi questi sono i tre canali importanti da avere sempre a portata di mano il gruppo Education Italia di Davines il sito Davines nella sezione di School of Marketing and Education e il canale YouTube dove andiamo ad archiviare tutti i live abbiamo visto quindi le tematiche che sono veramente ampie e spaziano dal marketing all'education e tanti altri argomenti e sempre più cambieranno e sempre più saranno vari nei prossimi giorni nelle prossime settimane bene a questo punto abbiamo visto che oggi dopo essere molto importante stare vicino al proprio staff diventa determinante stare vicino anche ai propri clienti sappiamo quanto sia oggi importante stare vicino ai vostri clienti quindi continuate a comunicare con loro e coinvolgerli il più possibile ci sono molte cose che potete facilmente fare anche da casa noi oggi siamo qui per darvi delle idee condividere con voi alcuni strumenti che potrebbero essere utili a voi per comunicare sui vostri social media quindi oggi è il momento di stare vicino ai vostri clienti in questo momento partiamo da come informare i clienti oggi il salone è chiuso e sono ormai già qualche giorno che il salone è stato chiuso però a fronte di un salone chiuso fisicamente quello che consiglio di tenere virtualmente il salone aperto abbiamo sempre detto che dovevamo magari lavorare meglio sui social media ma non avevamo le competenze non avevamo il tempo bene oggi è arrivato il tempo per acquisire queste competenze per migliorare le vostre conoscenze sui social media e di fare delle azioni dirette con i vostri clienti oggi è il momento in cui voi dovrete comunicare ai vostri clienti che state facendo svariate attività per migliorare voi stessi per migliorare il vostro salone per migliorare la loro esperienza di quando torneranno a visitarvi in salone quindi in questo momento dovete comunicare comunicare e comunicare cosa possiamo consigliare ora che il salone è chiuso diciamo per chi ne ha la possibilità o chi l'ha fatto magari già in passato a fronte di un salone chiuso io sulla vetrina del negozio avrei comunicato che il salone rimane chiuso ma siamo raggiungibili online quindi avrei scritto qual è il vostro profilo facebook la vostra pagina instagram il numero di cellulare quindi di whatsapp quindi un telefono e magari anche un sito internet date tutte le informazioni finché le persone possano contattarvi in un modo digitale organizzate poi il vostro palinsesto di comunicazione come Davines ha organizzato il proprio dovete farlo anche voi una comunicazione che verrà fatta poi sui social media con delle storie dei live dei post organizzatelo proprio fisicamente prendete foglie e penna e scrivetelo così vi date un programma e vi diventa molto chiaro come andare a gestire questa settimana settimana per settimana mantenere poi le relazioni con i clienti vostri che in molti casi sono anche amici è importantissimo e per fare questo oltre ai social media si può utilizzare whatsapp business può essere uno strumento molto interessante che adesso andremo a vedere un po' più da vicino ma anche poi la semplice banale telefonata che poi tanto banale non è perché magari sono qualche secondo qualche minuto dedicato che però hanno un forte valore e un forte impatto sulle persone che ricevono questo tipo di chiamata quindi oggi è il momento di essere concreti tutto quello che fate oggi lo dovete fare con un obiettivo concreto che è quello di stare vicino ai vostri clienti oggi e lavorare affinché il cliente un domani pensi a voi nel momento in cui ha un bisogno di cambiare look dovete essere il loro primo pensiero e quindi voi dovete sfruttare meglio questo tempo per lavorare sui social media guardare video su youtube su come funzionano leggere altri articoli leggere questo manuale utilizzare questo tempo per aggiornare le informazioni del vostro profilo su facebook su instagram su google oggi è il momento di lavorare per la ripartenza per il domani coinvolgere i clienti con i social media abbiamo detto che per coinvolgere i vostri clienti quindi il vostro pubblico sicuramente il miglior modo per fare intrattenimento sono i social quindi facebook e instagram oggi magari non è il momento per andare a spingere la rivendita di prodotti in un modo molto aggressivo però sicuramente bisogna creare un giusto mix con delle attività di intrattenimento che possono essere di svariato genere noi qui ne abbiamo elencate alcune ad esempio come intrattenimento pur abbiamo messo lista di film canzoni e libri se avete dei vostri film le vostre canzoni i vostri libri preferiti condivideli con il vostro pubblico delle ricette di cucina da fare a casa molti di voi hanno partecipato alla campagna food for change molti hanno questo libro questo ricettario fatto in collaborazione con Slow Food con delle ricette stagionali prenderei una ricetta della nostra stagione di questo periodo che quindi visto il tempo di oggi non so se è più l'inverno anziché la primavera e con questi frutta e verdura di stagione realizzerei in diretta una ricetta giochi da fare a casa con dei bambini sempre al termine di questo ricettario di Food for Change c'erano due giochi da suggerire per coinvolgere i bambini uno di questi secondo me è molto vicino a voi perché praticamente fa riciclare scarti di bucce di frutta e verdura e con questi scarti fa creare dei colori in questo modo permette al bambino attraverso il gioco di avvicinarsi al mondo dei colori e al mondo della stagionalità oppure si può organizzare un aperitivo una colazione oggi ormai ho visto veramente tantissime persone con un grande desiderio di avere contatti con persone all'esterno perché oggi ci hanno isolato internamente alla casa ma noi siamo come posso dire siamo animali sociali siamo abituati a stare a contatto con le persone con le altre persone chi più chi meno e oggi magari siamo fortunati perché in casa abbiamo una famiglia un parente un'amica un amico insomma magari possiamo condividere l'appartamento con più persone ma comunque abbiamo bisogno di questa socialità e oggi lo si vede attraverso questi aperitivi fatti su whatsapp su skype su tanti sistemi che magari ci porta anche a vedere persone che nella vita normale con i nostri ritmi non vedevamo da mesi questo proprio a significare la necessità il bisogno che le persone hanno di stare a contatto con altre persone altri contenuti che si possono condividere sono il come fare come si fa una piega come si fa una treccia come nascondere la ricrescita in questo momento di isolamento oppure come aggiustare una frangia oppure come non aggiustare una frangia della serie magari consigliate di non mettere mano per non fare per non creare oggi delle situazioni poi difficilmente riparabili un domani lì siete voi gli esperti quindi sapete voi cosa consigliare ai vostri clienti in questo momento poi si può parlare anche di prodotti si può parlare di prodotti quindi trattamenti da fare a casa in questo momento parlare di il giusto prodotto per un capello liscio o quant'altro oppure se ci sono dei prodotti particolari di cui volete voi parlare in questo momento noi che cosa abbiamo fatto qui abbiamo guardato online sui social media abbiamo visto che tanti di voi si sono già mossi in un modo veramente molto buono ottimale oserei dire e abbiamo preso del best practice quindi degli esempi e li condivideremo con voi insieme poi a condividere quello che noi concretamente abbiamo fatto mi ha fatto piacere vedere tantissime attività di intrattenimento dove tantissimi di voi si sono messi in cucina e in completo stile masterchef hanno fatto vedere delle bellissime attività di cucina ricette coinvolgendo con un sacco di seguito poi ci sono state anche attività di eventi live che sono stati comunicati e poi gestiti come dirette pur ho visto anche video di come si fa come fare determinate cose anche molto bello le consulenze consulenze gratuite quindi dare del tempo a disposizione delle persone per chiedere fare domande quindi raccogliere poi input e fare delle dirette ad hoc poi ho visto tante persone anche seguire il movimento We Care quindi quello di prendersi cura rimanere in contatto seguire la campagna io sto a casa quindi proprio essere voi in prima linea i promotori di questo movimento di questo concetto che sta dentro poi il nostro concetto di We Care bene a questo punto arriviamo a domandarsi dove sono i contenuti Davines Davines che cosa ha creato per voi oltre a questo manuale che è un po' una guida abbiamo realizzato anche dei contenuti dei social media kit i social media kit che cosa sono? sono delle immagini già ritagliate pronte con del testo per essere condivise sui vostri canali sui vostri social media su Facebook e su Instagram questi materiali li abbiamo già realizzati e sono pronti e disponibili per voi in due luoghi uno abbiamo messo disponibile sulla piattaforma dei materiali personalizzabili la piattaforma dei materiali personalizzabili è un vero e proprio piattaforma che noi condividiamo e mettiamo a disposizione di tutti i nostri clienti tutta la nostra community e ha l'obiettivo di fare che cosa? di fornire un servizio a tutti voi un servizio di marketing perché vi dà la possibilità di personalizzare dei materiali di personalizzare delle comunicazioni di andare a scaricare delle immagini a breve anche dei video ci sarà la possibilità di scaricare questi social media kit quindi tutto il necessario per avere un supporto da un punto di vista marketing dove potete trovare questa piattaforma? la potete trovare sul sito Davines nella sezione per professionisti cliccando su materiali personalizzabili oppure cliccando su questo link in verde che vi ho riportato su questa pagina ma anche direttamente in questo momento con la diretta in corso prendendo il vostro cellulare quindi il vostro smartphone andandolo a attivare sulla modalità della fotocamera e con la fotocamera del vostro cellulare andare a inquadrare questo piccolo quadratino che vedete in basso a sinistra nella presentazione questo quadratino qui si chiama QR code i QR code sono qualcosa che esistono da tantissimi anni ormai saranno più di dieci anni che esistono ma fino a circa un anno e mezzo fa erano uno strumento obsoleto perché per utilizzare questo QR code serviva un'app ogni volta che serviva l'app non c'era mai scaricata non era su questo telefono non funzionava doveva essere aggiornata quindi il QR code non era utilizzato non era fruibile non tornava comodo poco tempo fa è successo che sia per android che per gli iphone hanno fatto un aggiornamento che con la fotocamera della proprio cellulare semplicemente inquadrando questo piccolo riquadro il cellulare si mette direttamente in connessione con una pagina online con un contenuto su un sito quindi oggi il QR code è diventato il miglior modo possibile per mettere in connessione qualcosa di cartaceo quindi qualcosa di fisico a un qualcosa di digitale che si trova online anche nelle nostre comunicazioni che stiamo facendo all'interno del salone vedete come abbiamo fatto largo uso di questo strumento perché dal vostro salone dalla postazione magari del vostro salone permette a un cliente di inquadrare col proprio smartphone questo QR code e di andare online a recuperare un contenuto a guardare un video a guardare un'immagine poi questi materiali dov'è che sono disponibili? sono disponibili anche sull'app quindi su un'applicazione che si chiama Amplify Amplify è un po' la grande rivoluzione da un punto di vista di comunicazione che quest'anno abbiamo apportato e l'abbiamo inserito all'interno del progetto Marketing Card quindi oggi è un'esclusiva clienti Marketing Card e anche un numero abbastanza importante di clienti Sustainable Beauty Partner quest'anno hanno deciso di avere la app di Amplify anziché la gestione della pagina da parte dell'agenzia di comunicazione questa app che cosa permette? questa app permette di scaricarla sul proprio smartphone al primo accesso andare a collegare il proprio profilo Facebook e Instagram del salone a questa app una volta che abbiamo fatto questo abbiamo la possibilità di condividere in 30 secondi ma anche meno dei contenuti dei post delle storie di qualità molto alta fatte da noi da Avines condivise con voi e voi avete anche la possibilità di personalizzarne il testo quindi veramente in ogni giorno con pochi secondi da dedicare potete fare la vostra campagna di comunicazione promuovendo delle linee dei prodotti dei servizi delle campagne in questo caso tutto il pacchetto social media kit del pacchetto WeCare bene questi sono i contenuti che noi abbiamo per il momento realizzato e condiviso con voi andremo poi a continuare a creare contenuto e sempre lo andremo a caricare su queste due pagine la pagina di materiali personalizzabili e sull'app di Amplify oggi abbiamo creato vedete qui ci sono diverse forme una è quadrata e l'altra è rettangolare bene quelle cose quadrate sono i post quindi i post vanno in bacheca di Facebook e di Instagram quelli rettangolari invece sono le famose storie che possono essere utilizzate sia su Facebook che su Instagram sono quelle che si vedono nella parte alta diciamo del social media su Facebook sono dei piccoli tondini che si cliccano e quindi partono immagini video cose di questo tipo su Facebook sono dei rettangoli un po' più grandi che si trovano sempre nella parte alta vedete che abbiamo creato dei contenuti per stare vicino ai vostri clienti abbiamo fatto tre contenuti li abbiamo realizzati sia nel formato post che nel formato storia abbiamo creato poi dei contenuti per comunicare che il salone è aperto e che il salone è chiuso ovviamente in questo momento il salone è chiuso il salone è aperto sarà per un domani quando ci sarà la ripartenza e per questo abbiamo creato sia dei post che per delle storie poi abbiamo creato una storia per comunicare un evento una diretta un live da voi personalizzabile con i vostri clienti poi che cosa abbiamo fatto una batteria che è quella in basso di contenuti e di intrattenimento perché con tutto il tempo che abbiamo oggi a disposizione si lo utilizziamo per migliorare noi stessi quindi per fare formazione per crescere ma al tempo stesso anche per spendere bene questo tempo con contenuti magari di qualità quindi dei bei film dei bei libri dei bei di ascoltare della buona musica e noi abbiamo condiviso con voi alcune una selezione di libri che riteniamo interessanti e che possano portarvi del contenuto del valore aggiunto una selezione di due playlist musicali che sono disponibili sull'applicazione di Amplify scusate sull'applicazione di Spotify quindi tutti voi potrete andare su Spotify e seguire gratuitamente queste playlist che sono una selezione di musica realizzata da Davines c'è poi una selezione anche di film che al tempo stesso anche voi potrete andare a condividere quindi con i vostri clienti bene abbiamo visto tantissimi di voi fare delle dirette sui social ma per tanti che ho visto fare delle dirette sicuramente ho sentito anche tante altre persone dire ma io non me la sento ma io non le ho mai fatte queste cose ma io mi vergogno bene io quello che vi posso dire è che sono io il primo a non aver mai fatto una roba di questo genere non sono mai stato abituato a parlare online a fare delle dirette io sui social media prima di oggi non ho mai fatto un live mai non è mai successo potete andare a controllare che non sto dicendo le bugie non mi sono perché non mi trovavo a mio agio alla fine non lo so non ho mai avuto il motivo per fare una cosa di questo tipo però qui ho colto l'occasione penso che nei momenti di difficoltà sono i momenti in cui noi facciamo dei veri e propri miglioramenti andiamo oltre noi stessi andiamo oltre questa zona di comfort oggi è il momento di farlo per voi e di farlo e di lavorare sui social media perché oggi i social media sono uno strumento che vi serve per comunicare con i vostri clienti quindi avete un'opportunità e dovete coglierla ma soprattutto dovete farlo senza stress perché non dovete avere il timore di mostrare il vostro volto non dovete sembrare dell'influencer non dobbiamo tutti essere delle Ferragni o dei Fedez cioè anche la vostra ingenuinità magari un minimo di imbarazzo nelle prime dirette penso che faccia parte del gioco e venga forse apprezzata ancora di più in questo momento perché i vostri clienti in questo modo possono anche capire lo sforzo che voi state facendo pur di stare vicino a loro quindi quasi oggi questa impreparazione passa secondo me come un messaggio positivo quindi oggi dovete trovare la forza di provare ad andare fuori da questa zona di comfort e migliorare voi stessi ok abbiamo detto che è importante farlo è importante farlo farlo senza stress anche se non siete diciamo bravissimi è importante essere semplici cercare di essere empatici ma insomma diciamo che ci sono alcune cose che però possiamo preparare ci sono alcune cose sulle quali possiamo andare a lavorare per cercare di preparare meglio questa diretta allora noi che cosa abbiamo fatto? una vera e propria piccola guida piccola guida per andare a condividere con voi alcuni chiamiamoli definiamoli suggerimenti per preparare una diretta quindi prima durante e dopo vediamoli assieme prima del live allora prima di iniziare una diretta bisogna decidere lo scopo del tuo live cioè non arrivare lì e improvvisare magari può essere una serata facendo un aperitivo si improvvisa però lo scopo era chiaro era fare un aperitivo bisogna definire l'argomento della diretta bisogna poi fare un annuncio quindi comunicare al tuo pubblico questa diretta comunicarne la data l'ora e l'argomento questa comunicazione consiglio di farla non per la mattina per la sera o il giorno prima per il giorno dopo cerchiamo di farlo con un minimo di preavviso in modo che anche le persone possano organizzarsi e affinché possano partecipare a questa diretta controllare il segnale il segnale wifi è importantissimo in questo momento siamo tutti a casa siamo tutti a casa e quindi c'è anche i segnali le reti a volte non funzionano benissimo quindi quello che vi posso consigliare è se vi collegate da un computer se questa diretta la fate da un computer anziché collegarvi col wifi attaccatevi con il cavo che si chiama cavo Ethernet direttamente al modem il segnale sarà senz'altro più alto e in quel momento disattivate il wifi di tutti i vostri smartphone ipad staccate tutte le altre cose fate in modo che il segnale abbia la massima potenza sullo strumento che state utilizzando stessa cosa vale se fate una diretta da un cellulare da uno smartphone o da un ipad disattivate tutte le altre cose ovviamente ipad e iphone devono collegarsi col wifi quindi non possono utilizzare il cavo ma quantomeno disattivate il wifi degli altri strumenti preparare il vostro discorso anche qui nel senso non è che c'è da fare un discorso parola per parola che va recitato come se fosse un libro da leggere però diciamo che sicuramente immagino che non siete preparati non avete grande esperienza nel fare queste dirette magari parlando si può perdere il punto si può perdere il filo del discorso quello che vi consiglio è di mettervi qui magari di fianco alla vostra destra un foglio con uno due tre quattro cinque punti di argomenti di cose che volete affrontare in modo che poi se anche dovesse divagare la diretta e magari non so distrarvi con dei commenti distrarvi con altre cose riguardando il vostro foglio che avete qui alla destra avete sempre la strada che potete ripercorrere che potete quindi riprendere il filo del discorso preparati a rispondere ai commenti è importante ma durante il live ci saranno persone che vi faranno domande commenti vi vorranno diciamo condividere con voi alcuni momenti li potete se avete una persona con voi in casa che vi può aiutare a gestire la chat organizzare in questo modo oppure voi stessi essere pronti a gestire questi commenti anche i giusti tempi per le dirette penso siano importanti una buona diretta penso che almeno una decina di minuti possa durare difficilmente andrei oltre i 30 minuti perché già quando facciamo dirette da contenuti formativi come queste mantenere l'attenzione per tanti minuti non è facile cioè non siamo dal vivo perché magari dal vivo una conversazione la si può tenere in piedi anche per delle ore o una classe una formazione quando hai il contatto che guardi le persone negli occhi puoi interagire puoi tenere viva diciamo la classe è un conto quando invece hai uno schermo e una piccola telecamera con un microfono che ti permettono di comunicare con un qualcuno che chissà dove si trova non è così facile mantenere alta l'attenzione per tanto tempo dare un nome ai tuoi live prima di iniziare un live bisogna dare il nome a questa diretta e il nome deve attirare l'attenzione della persona che sta dall'altra parte a questo punto siamo pronti ci siamo preparati abbiamo cercato di sbagliare bene sbagliare il meno possibile a questo punto poi si parte con la diretta durante la diretta bisogna fare tante cose anche lì magari all'inizio ci si penserà un po' di più dopo diventeranno spontanee controllare la postura penso diretti di questo tipo magari non so la maggior parte saranno fatte da seduto alcune sicuramente saranno anche in piedi perché se dovessi cucinare da seduto magari può diventare un po' complesso però principalmente saremo da seduti magari evitiamo quelle cose che forse danno fastidio o che comunicano qualcosa non di buono anche quando siamo dal vivo quindi le braccia incrociate le mani in tasca insomma un minimo cerchiamo di controllare la postura da un'occhiata cosa indossi? l'abbigliamento è importante è importante per non distrarre le persone da quello che tu stai dicendo che io cerco di rimanere sobrio in qualcosa che mi rispecchia non attira l'attenzione minimale e non distrae in questo momento è importante non dare messaggi controversi cioè quando si parla di sicurezza cose di questo tipo attenzione a sbilanciarsi perché in questo momento alcune cose potrebbero essere mal interpretate e rigirarsi contro di voi state attenti anche a non minimizzare il problema io penso sia importante sempre dare messaggi positivi però messaggi positivi non significa minimizzare il problema che abbiamo oggi perché non sapete con chi state parlando quindi magari dalla parte di là avete persone che non stanno percependo la situazione perché fortunatamente hanno un contesto più favorevole altre che invece sono magari state toccate più da vicino perché sono veramente quattro mura molto piccole sono da sole hanno avuto dei problemi questa situazione l'ha toccata da vicino quindi attenzione quando vi sbilanciate su questi argomenti controlla regolarmente la sezione dei commenti qui è importante è importante la sezione dei commenti senz'altro perché le persone vi diranno vi chiederanno vi faranno domande vorranno interagire con voi queste persone sono persone che stanno dedicando il loro tempo a voi quindi devi ricordarti che hai un pubblico devi quindi interagire con loro devi cercare il più possibile di essere di far sì che questo sembri una chiacchierata e non una lezione universitaria monodirezionale quindi leggete i commenti rispondete ai commenti chiedete a loro fate domande e soprattutto ricordatevi di ringraziare ringraziare per il tempo che vi stanno dedicando nel momento in cui poi fate anche queste dirette un'altra cosa importante è quella anche di preparare la postazione cioè la postazione dove fate la diretta è importante perché perché comunque dà un po' il contesto dell'ambiente attenzione a utilizzare luce naturale perché magari durante la diretta la diretta può anche cambiare la luce e quindi abbassarsi quindi una luce artificiale una buona lampada una buona luce può forse essere più una scelta più saggia al tempo stesso magari se volete mettere un qualche elemento che vi rispecchia magari senza fare troppa confusione anche qui uno sfondo un po' più pulito un po' più neutro mette l'attenzione principalmente su di voi poi un'altra cosa che io suggerisco quando le dirette poi durano tanto avere un buon bicchiere d'acqua oppure una borraccia con un po' d'acqua perché puoi parlare tanto anche la voce si affatica e quindi delle caramelline magari alla menta un po' d'acqua aiuta nel gestire la diretta terminato il video terminato il live non finisce qui il lavoro ora inizia tutta la gestione del post dopo aver fatto la diretta bisogna salvare la diretta in modo che poi chi non ha potuto beneficiare della diretta in modo live la può guardare dopo bisogna controllare la sezione dei commenti e rispondere magari a tutte queste domande che non hai avuto il tempo di rispondere live perché le persone comunque che vi hanno dedicato il tempo e vi hanno anche condiviso un commento a posteriori è dal mio punto di vista giusto che voi gli ideate qualcosa indietro magari rispondendo a delle domande oppure anche semplicemente con un emoticons quindi uno smile un sorriso un cuoricino un qualcosa un'emozione raccogliere nuove idee i commenti sono determinanti per raccogliere idee per futuri per future dirette per futuri live per future attività cercate quindi di coinvolgere il vostro pubblico facendogli domande chiedendogli come migliorare i vostri live le vostre dirette ascoltando i vostri clienti chiedendogli anche dopo le dirette magari utilizzando gli strumenti penso di instagram usando le domande i quiz i sondaggi oggi noi siamo ormai molto predisposti a utilizzare questi strumenti che nella maggior parte lasciano l'anonimato domande molto semplici dove con un click rispondiamo sì o no mi piace uno o due o tre e questo danno la possibilità a chi fa queste domande di reperire informazioni vitali determinanti per organizzare qualcosa di nuovo un domani che possa essere interessante per il proprio pubblico e poi bloccare un orario un giorno una settimana cioè anche qui ci sta che a volte si possa improvvisare qualcosa ma create una routine vedete Davines se andate sulla pagina School of Education and Marketing vedete il calendario dove c'è il palinsesto sul nostro sito dove tutti i lunedì tutti i mercoledì e tutti i venerdì dalle 11 in poi c'è una diretta poi ce ne sono altre al pomeriggio ce ne sono altri giorni ma comunque ci sono degli appuntamenti fissi appuntamenti fissi che vengono come posso dire vanno a creare una routine quindi tutti voi sapete che ormai a tal ora c'è Davines che condivida un qualcosa ma andiamo a vedere cosa provate a fare lo stesso anche con i vostri clienti col vostro pubblico raccolte fondi diciamo che insomma chi fa parte della nostra community senz'altro è un qualcosa che già conosce cioè noi siamo sempre i primi a essere promotori di raccolte fondi grazie al vostro aiuto e il vostro coinvolgimento attivo penso le campagne di marketing sociali quanti soldi abbiamo raccolto ed è voluto ad associazioni per Tuteliamo il Mare per Food for Change per tutte le nostre campagne che ci hanno portato a ottenere un vero e proprio risultato un riscontro positivo per il pianeta e per le persone oggi penso l'ultima che abbiamo creato l'installazione delle barriere sul fiume Po per intercettare i rifiuti altrimenti diretti al mare adriatico e questo l'abbiamo fatto grazie a voi quindi in questo momento ci sono tante raccolte fondi già esistenti qui abbiamo condiviso con voi un paio di link uno che vi fa vedere le raccolte fondi che già sono esistenti noi le consigliamo alcune possono essere interessanti se vi può far piacere contribuire in un qualche modo al tempo stesso avete la possibilità di creare una vostra raccolta fondi nella vostra community e farvi voi portavoce di questo messaggio a quel punto poi spetterà a voi cercare di ispirare le persone unirle e coinvolgere in questa attività abbiamo parlato di social media come sicuramente uno strumento determinante in questo momento tutti voi avete i vostri canali social e diventeranno qualcosa veramente di determinante in questi giorni di isolamento ma uno strumento che vi potrà aiutare tantissimo oggi ma anche soprattutto alla ripartenza sarà questo famoso Whatsapp Business allora Whatsapp Business che cos'è? innanzitutto è un'app è un'applicazione ed è gratuita è disponibile sia per Android che per iPhone quindi per tutti è un qualcosa che è destinato ai proprietari delle piccole aziende di piccole attività quindi è un qualcosa che per voi potrebbe essere veramente l'ideale che cosa fa Whatsapp Business? semplifica la comunicazione fra una realtà un'attività e i propri clienti dando degli strumenti che permettono di comunicare in modo diretto un po' più organizzato e in un modo molto semplice in realtà perché Whatsapp Business non è altro che un'app che si scarica e la deve scaricare solamente chi manda il messaggio quindi solamente voi come funziona? innanzitutto permette di dare informazioni sulla vostra attività quindi c'è una propria come il vostro profilo personale che avete anche su Whatsapp normale qua possiamo scrivere il nome del salone l'indirizzo la mail gli orari il sito web condividere alcuni servizi che magari voi fate in salone quindi diventa un vero e proprio una pagina un proprio profilo vostro del vostro salone con tutte le informazioni che i clienti possono vedere ci sono poi delle statistiche che questo è determinante perché sempre più ragazzi quando si fa un qualcosa bisogna monitorare l'andamento della cosa che abbiamo fatto facciamo una promozione vediamo quanto abbiamo venduto avevamo un obiettivo l'abbiamo raggiunto? sì no perché? cosa possiamo fare meglio la volta successiva? stessa identica cosa comunicazione mando un messaggio quanti ne ho mandati? quanti hanno aperto questo messaggio? quanti hanno letto questo messaggio? posso migliorarlo? posso cambiare l'oggetto del messaggio? posso scrivere in un modo differente? e poi con Whatsapp Business le parole chiave sono liste broadcast le liste broadcast questo termine che sembra complessissimo cioè in realtà è una cosa banalissima sono un po' come creare delle chat cioè con Whatsapp o quando volete parlare con più persone create una chat mettete dentro una, dieci, venti, trenta persone e poi mandate un messaggio tutti vedono il vostro messaggio qual è il problema? che nelle chat di Whatsapp normale se una persona risponde la vedono anche tutti gli altri in un contesto commerciale di attività se mandate una comunicazione ai vostri clienti magari non è proprio il massimo che se un cliente risponde magari con una risposta che possa essere positiva negativa o chissà che cosa può rispondere può influenzare anche tutti gli altri il vantaggio di Whatsapp Business è la comunicazione cioè io con un messaggio dal mio cellulare io salone comunico a 100 persone poi la persona se risponde risponde solamente a me e gli altri non vedono quindi la cosa molto importante che cos'è? l'app di Whatsapp Business la deve scaricare solamente il salone un cliente finale un vostro cliente non ha bisogno di scaricare nient'altro lui utilizzerà Whatsapp quello che già ha sul proprio cellulare che si chiama Whatsapp Messenger e utilizzerà quello nient'altro non dovrà fare nulla l'unico vero vincolo di Whatsapp Business è che il vostro cliente la persona alla quale è mandato un messaggio deve avere salvato nella sua rubrica del suo smartphone il vostro numero di cellulare altrimenti il suo cellulare non riceve il vostro messaggio che avete mandato nella lista broadcast questo è molto importante e io colgo l'occasione anche per dire a tutti voi di salvare nella vostra rubrica il numero di telefono di Davines perché in questo modo che cosa potremmo fare? potremmo noi comunicare a voi utilizzando noi Whatsapp Business di Davines mandando delle informazioni sul vostro Whatsapp dove vi comunichiamo cose che sono importanti per voi in questo momento quindi c'è la nuova diretta sta per iniziare abbiamo creato un nuovo social media kit puoi utilizzarlo e lo trovi a questo link quindi diventa un metodo molto facile di comunicare perché oggi Whatsapp ce l'abbiamo tutti sempre a portata di mano perché sta dentro il nostro smartphone il numero di Davines che io vi chiedo di salvare è 342 32 9 1 0 8 4 adesso potete segnalarlo in diretta ma al tempo stesso sarà comunque presente disponibile in questo documento che io manderò a tutti voi quindi tutti avrete a disposizione ripeto il numero 342 32 9 1 0 8 4 è il numero da salvare nella vostra rubrica per far sì che Davines vi possa comunicare con Whatsapp Business in modo diretto bene a questo punto siamo arrivati all'ultima parte di questo manuale al quarto capitolo quello che guarda al futuro futuro più o meno prossimo lo scopriremo nei prossimi giorni nelle prossime settimane e quindi prepararsi per la ripartenza i saloni saranno un pilastro della ripartenza e questo penso che sia una cosa abbastanza forse chiara a tutti noi se non è chiara io penso che guardando le persone oggi che a volte fanno anche fatica a farsi vedere attivare il video della videocamata perché si vedono i capelli scomposti con la ricrescita con insomma sicuramente prima di ripartire di uscire sarà una tappa determinante della ripartenza siamo però anche consapevoli che difficilmente tutto tornerà come prima bisogna quindi vivere questo momento di cambiamento con l'azione bisogna fare bisogna prepararsi prepararsi a un futuro che oggi è ancora incerto però sicuramente abbiamo delle percezioni delle sensazioni su quello che sarà il nostro domani probabilmente aumenteranno i servizi a domicilio oggi tutti stiamo facendo la spesa a casa consegne a casa piatti a casa da cucina di ristoranti pizzerie quindi come posso dire sicuramente un domani ci sarà fisiologicamente un po' di persone che continueranno a fare questo tipo di servizio usufruire di questo servizio forse il salone cambierà un po' ambiente cambierà l'atmosfera forse sarà un qualcosa un po' più di casalingo un po' più con l'atmosfera di casa il concetto quindi di casa un concetto comunque molto caro che mette le persone a proprio agio le persone sicuramente andranno a ricerca di maggiore sicurezza maggiore sicurezza negli ambienti nel cibo nei prodotti nelle persone nei servizi ci saranno grandi esigenze di rassicurazione e attraverso cosa raggiungiamo la rassicurazione? attraverso cambiamenti che dobbiamo mettere in atto e comunicazione che dovremo fare perché la rassicurazione passerà attraverso la comunicazione un domani è per quello che oggi stiamo facendo anche un esercizio di comunicazione oggi perché ci permetterà di essere più bravi a comunicare domani partiamo e andiamo nella mente del cliente abbiamo detto che quindi qui le persone andranno a cercare rassicurazioni vorranno vedere maggiore attenzione intorno a noi e dopo magari un entusiasmo forse iniziale perché le porte verranno riaperte sicuramente si andrà a lavorare con una ricerca sicuramente maggiore di maggiore pulizia maggiore igiene quindi è immaginabile che all'interno dei nostri saloni si possa immaginare in futuro dei nuovi protocolli igienici sicuramente sarà difficile immaginare una persona nei prossimi mesi nella seconda parte dell'anno che possa andare in giro senza forse un gel man inginezzante informato da borsetta nella propria borsetta nel proprio zaino nella propria tasca e quindi nel salone potremmo immaginarci di avere anche del gel mani igienizzante all'interno del salone oppure anche magari penso nei bagni con una crema mani che permetta di poi questi gel sono a base alcolica quindi tendono un po' a seccare le mani igienizzare le spazzole le forbici fra un'applicazione fra un cliente e l'altro igienizzare il lavatesta le postazioni tutto ciò a cui le persone vanno a contatto e che poi altre persone dovranno andare anche loro a loro volta a contatto bisognerà essere pronti forse a utilizzare guanti o mascherine non si sa com'è che si ripartirà questo lo scopriremo bisogna fare in modo che vengano rispettate le distanze di sicurezza all'interno del salone quindi un po' più di respiro fra una postazione e l'altra non accettare troppe prenotazioni perché secondo me si andranno a creare poi degli ambienti un po' spiacevoli per le persone quindi potrebbe essere un'idea quella di lavorare con la logica del prebooking quindi a lavorare su appuntamento potrebbe essere una cosa interessante quindi bisogna fare in modo che il salone metta in piedi tutte queste attività e che queste attività poi vengano comunicate in vetrina sui social a voce perché questa comunicazione farà sì che il cliente sarà rassicurato da queste nuove policy igieniche 5 buoni principi per ripartire che ci sentiamo di condividere sono quelle di entrare in contatto coi vostri clienti sì ora ma anche quando si ripartirà e quando si ripartirà i social media e whatsapp business strumenti che oggi avrete imparato a fare i vostri a utilizzare saranno dei canali molto interessanti per comunicare quando sei di nuovo operativo per gestire le prenotazioni per gestire tutto quello che vi servirà gestire un domanda nella ripartenza ci saranno tante persone che verranno in salone quindi bisogna forse tenersi pronti a prolungare l'orario di lavoro cioè se voi avrete più persone di prima che verranno ma dovrete avere più spazio più spazio fra una persona e l'altra non potete creare l'arressa magari che c'era prima fisiologicamente ci saranno da immaginare orari magari più dilatati quindi andare anche orari fuori da orario di lavoro oppure magari di rimanere aperte le giornate in cui erano giornate di riposo quindi è molto importante verrà la gestione dei turni con il vostro staff anche le vacanze estive quelle di agosto come tutti noi conosciamo forse quest'anno dovremo un attimino rivederle dovremo ripensarle in un altro modo quindi la gestione dello staff dei turni diventerà veramente importante iniziate già adesso a fare dei ragionamenti si personale più intimo abbiamo detto evitare quindi troppe persone nel salone garantire i giusti spazi mettere in sicurezza i vostri clienti e che i clienti si sentano abbiano questo percepito di rassicurazione creare un vero e proprio progetto trasparenza per i vostri clienti con i vostri clienti da domani non sarà più sufficiente solamente essere bravi essere persone che stanno seguendo in protocolli genici ma sarà anche importante sembrare sembrare e comunicare perché attraverso questa comunicazione attraverso questa apparenza che verrà poi verrà diciamo fatta vedere sui social sulla vetrina in salone sarà qui che passerà la rassicurazione per il cliente quindi oggi non più essere bisogna essere comunque ma anche sembrare e comunicare tutto questo porta alla rassicurazione dei nostri clienti infine creare un nuovo trattamento we care un trattamento per prendersi cura dei nostri clienti quindi un nuovo trattamento igienizzante per l'accoglienza ci stiamo lavorando anche noi però iniziate anche voi a pensare come un rituale di lavaggio mani con il gel con la crema un qualcosa che permetta di rassicurare il cliente di lavorare con nuove polisi igieniche attenzione a non svalicare troppo nella procedura che sembra quasi un protocollo da ospedale igienizzante troppo medicale cercate di creare qualcosa che sia più una coccola che però al tempo stesso vada a lavorare in questa direzione nella rassicurazione e con un nuovo protocollo igienico ripartiremo tutti più forti di prima sicuramente ci siamo spaventati ci stiamo spaventando ma stiamo prendendo consapevolezza di tante cose stiamo stiamo riapprezzando tante cose della nostra quotidianità ce lo siamo detti la ripartenza ci sarà ci sarà molto forte per voi preparatevi a gestire con tutto il vostro staff ricrescite nuovi colori cambi look tagli tutti dovrete essere pronti più forti e più preparati di prima veramente oggi è un momento per fermarsi fare un passo e fare una rincorsa ancora più grande domani bisogna prepararsi in questo momento e anche la rivendita sarà un qualcosa molto importante dovremo preparare una buona rivendita una buona esposizione cogliere queste occasioni perché le persone magari in questo periodo avranno anche terminato tanti prodotti quindi avere giusti prodotti esposti e comunicati nel modo giusto è il motivo per il quale venerdì prossimo alla stessa ora alle 11 ci rivedremo nuovamente e affronteremo delle tematiche del visual merchandising del salone quindi tutti i consigli espositivi molto pratici di com'è che funziona come si esporre un prodotto su uno scaffale come comunicare all'interno di un salone tecniche di comunicazione del merchandising che vengono utilizzate un po' in tutte le attività commerciali e che noi come persone in modo consapevole oppure no siamo come posso dire subiamo quindi qui vi do appuntamento a una settimana da oggi esatta per parlare di visual merchandising quindi come creare il miglior angolo rivendita all'interno del vostro salone con delle tecniche espositive ovviamente anche noi da parte nostra stiamo lavorando per questa ripartenza quindi stiamo immaginando a cosa creare per voi per la ripartenza per nuovi protocolli nuovi trattamenti nuove promozioni nuove attività che vi potranno essere d'aiuto per ripartire e dare la giusta risposta alle nuove esigenze che avranno i nostri clienti quando verranno nei vostri nei vostri saloni nella vostra realtà stiamo cercando di lavorare veramente per voi per aiutarvi a gestire questo momento ma anche per con un occhio al domani e quindi guardare la ripartenza per gestire nel migliore dei modi questa ripartenza bene praticamente siamo arrivati alla conclusione di questa di questa diretta a questo punto io avevo promesso inizialmente che questo manuale che io ho accompagnato con questa mia argomentazione sarà disponibile e scaricabile in svariati modi allora innanzitutto questo manuale WeCare per noi è un dono che facciamo a tutti voi è un dono che facciamo a tutta la nostra community perché sicuramente oggi ci saranno tante persone che già fanno parte del nostro mondo Davines ma ci saranno anche tante altre persone che non fanno parte ancora del nostro mondo quindi ci sentiamo di fare questo dono anche quelli che magari saranno dei nuovi futuri nostri clienti amici del domani perché in un momento di difficoltà come oggi penso che contenuti di così alta importanza debbano essere condivisi non bisogna essere gelosi di queste cose è un po' come la sostenibilità cioè non si può essere invidiosi di pratiche di sostenibilità noi magari tanto tempo che ne parliamo è tanto tempo che abbiamo intrapreso determinate strade e oggi vediamo altre aziende altre realtà che seguono questo percorso bene c'è da esserne felici c'è da esserne orgogliosi perché la sicurezza e della sostenibilità non c'è da esserne invidiosi anzi io penso che dovremo tutti seguire lo stesso esempio dovremo seguire in tanti queste attività perché la sostenibilità ci permetterà di ottenere dei risultati da un punto di vista ambientale solo se tutti insieme andremo in una direzione non possiamo pretendere che altri non lo facciano ma solamente noi perché solamente noi possiamo fare ma non cambieremo le cose fino alla fine poi quando tutti inizieremo ad andare nella stessa direzione sicuramente sarà quella la strada giusta da seguire quindi l'idea è di condividere con tutti voi questo manuale il manuale lo potrete scaricare dalla chat quando voi oggi vi siete collegati vi è apparsa direttamente una chat box quindi una piccola chat in basso dove vi permette di fare delle domande lì c'era il messaggio di benvenuto e poi un link cliccando su quel link andrete direttamente sulla pagina dove c'è questo manuale che potrete scaricare oppure andando sul sito Davines nella sezione per professionisti School of Marketing and Education dove c'è il palinsesto quello di cui abbiamo parlato alla fine della pagina c'è scritto libreria manuale WeCare e c'è la possibilità di scaricarlo oppure sempre nella piattaforma dei materiali personalizzabili che anche questa si trova sul sito Davines nella sezione per professionisti materiali personalizzabili entrando dentro la piattaforma nella parte social media kit dove condividiamo i nostri post potrete trovare anche questo manuale da scaricare veramente il mio la mia speranza è che questo 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 tempo che mi avete dedicato che abbiamo trascorso insieme sia stato utile per voi spero che questo manuale possa essere per voi un qualcosa di utile di interessante vi prego di farne un buon uso e a questo punto io vi ringrazio tantissimo per il tempo che ci avete dedicato siamo stati molto puntuali e adesso quello che vi dirò è che andrò a vedere la chat per vedere ci sono delle domande che possono essere di interesse per tutti altrimenti ci diamo appuntamento lunedì già oggi pomeriggio ci sono altre dirette lunedì ripartiremo con il nuovo palinsesto e personalmente con me ci rivedremo il prossimo venerdì per il corso sul visual merchandising vado a leggere le dirette le domande nel frattempo che leggo le domande io vi metto questa pagina con questo QR code che questo QR code sarà un altro modo per inquadrando con la vostra fotocamera del vostro cellulare di andare a vedere direttamente il manuale WeCare scaricabile direttamente da questo link provate a farlo in diretta io nel frattempo sto aprendo la chat e vediamo che cosa trovo allora voi dovete sì voi potete salvare il vostro il nostro numero Davines ma non dovete mandarci indietro il vostro noi se siete clienti marketing card SBP abbiamo i vostri dati abbiamo questo numero di cellulare che possiamo andare a utilizzare per questo tipo di comunicazione poi sempre di più andremo ad estendere il servizio il link con il manuale qua diciamo ci siamo detti che è stato disponibile reso disponibile in tanti modi anche nel manuale nella chat inquadrando il QR code che vi ho fatto vedere adesso quindi anche lì potrete trovarlo vi ringrazio per vi ringrazio per tutti i i ringraziamenti che sto ricevendo su questo grazie molto mi fa piacere che gli spunti siano di vostro interesse allora quando create degli eventi con i vostri clienti finali col vostro pubblico io penso che i social media sia la cosa migliore da utilizzare quindi facebook e instagram con delle dirette live quando volete fare degli eventi con i vostri magari staff i vostri collaboratori sicuramente si può immaginare di utilizzare zoom di google è molto semplice ma anche anche skype semplicemente si può utilizzare e poi al tempo stesso anche qui diciamo che una forma di videochiamata molto semplice è quella di whatsapp ovviamente un po' più difficile condividere contenuti ma anche questo aiuta allora grazie a voi allora diciamo che adesso quello che io farò andrò a rispondere a ognuno di voi a tutti i commenti che mi avete mandato per il momento vi ringrazio vi do appuntamento a breve e veramente grazie buon fine settimana a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti